benvenuti in questo nuovo tutorial sono Danilo D'Antonio oggi ci occupiamo della compilazione del documento risorse illimitate si tratta di una proiezione di io sono la possiamo trovare sempre nella sezione documenti scorrendo il menu verso il fondo della pagina clicchiamo quindi su proiezioni di io sono la pagina successiva mostra una serie di cartelle ogni cartella fa riferimento a una diversa proiezione apriamo quindi la cartella risorse illimitate e scarichiamo anche in questo caso la versione italiana e la versione inglese come da consuetudine creiamo una nuova cartella e la chiamiamo RI e ci copiamo i due file appena scaricati apriamo risorse illimitate in italiano questo documento si compila allo stesso modo dei precedenti a fine compilazione dopo un attento ricontrollo ci occupiamo di togliere le evidenziazioni e i testi in rosso selezionando tutto il testo o utilizzando le scorciatoie da tastiera come descritto nel tutorial DOD a questo punto salviamo il file modificato lo stampiamo lo firmiamo e sigilliamo infine lo scansioniamo nelle modalità viste in precedenza infine facciamo la stessa procedura con il documento in inglese ecco un esempio del documento scansionato con i sigilli e tutte le firme applicate in alternato per ulteriori domande sui documenti o se avete bisogno di ulteriore aiuto per la compilazione e l'invio non esitate a contattare i referenti delle vostre terre saranno lieti di aiutarvi per ogni difficoltà il video finisce qui vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo tutorial